Mi chiamo Elisabetta Frigerio, sono avvocato cassazionista, amministratore giudiziario dei beni confiscati alla camionità organizzata e consigliere uscente nel precedente mandato. Mi presento con la lista Amare Albavilla con candidato sindaco Federico Civceri. La nostra sarà una lista civica a politica e a partitica, le mie deleghe saranno quelle relative all'urbanistica e all'edilizia. Vi presento i miei compagni di viaggio. Sono Maesani Stefano, libero professionista e sono con Federico Ciceri, candidato nella lista Amare Albavilla. Mi occuperò di politiche sociali, non vedo l'ora di poterlo fare, con Emanuela Pugliese che avrà le sue deleghe e gli altri candidati. Sono Emanuela Pugliese e mi occuperò di progetto disabili, progetto educativi, progetto scuola e darò il mio massimo perché ritengo che i giovani siano il nostro futuro. Sono Alessandra Arcuri, sono un agronomo, sono impiegata in agricoltura. Io mi occuperò di sport, politiche giovanili. Il mio obiettivo è coinvolgere i giovani nella vita di questo bellissimo paese che è Albavilla. Sono Melania Di Maio, mi occuperò del servizio biblioteca, cultura e marketing territoriale. Mi impiegnerò al massimo a rendere più efficiente il servizio e a valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio. Sono Carlo Chiozzi, albavillese, sono imprenditore e lavoro sul territorio. Mi occuperò di lavori pubblici e decoro e ovviamente voglio garantire il mio massimo impegno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono Panzere Alberto, nel gruppo mi occuperò dei rapporti con la parrocchia, del gruppo protezione civile e delle frazioni coinvolgendo il più possibile i giovani. Sono Gian Antonio Giannoni, pensionato, mi occuperò di verde, ecologia e montagna. Sono Luca Colombo, mi occuperò di commercio, attività produttive e sponsorizzazioni. Daremo il massimo per rilanciare le attività produttive del nostro paese con particolare attenzione al centro. Sono Flore Fabiola, mi occuperò degli anziani e dei rapporti con la Proloco e le associazioni. Sono Federico Ciceri, ex comandante della Polizia Locale, sono profondo conoscitore del territorio, di persone e di criticità, sono candidato sindaco per Amare al Bavilla, avrò le delega alla Polizia Locale, al patrimonio e al personale. L'8 e 9 giugno votate Amare al Bavilla! L'8 e 9 giugno votate Amare al Bavilla!